Registrazione video full HD da Asus Zenfone 3 Max Facciamo lo zoom digitale davanti a noi, torniamo indietro Movimento veloce, proviamo a fare il cambio di luce e il cambio di messa a fuoco Il cambio di luce ok, la messa a fuoco un po' meno, faccio io un tap to focus Ecco qua, di nuovo all'infinito, registrazione video full HD Asus Zenfone 3 Max